ave popolo rosso nero stamattina mi sono svegliato accendo la luce che fottutissima goduria che ho provato ancora capolista ancora la squadra che gioca il miglior calcio d'italia ancora una vittoria vittoria importantissima importantissima perché eravamo messi veramente male ancora sette assenze una vittoria che facendo finta che vince la juve col napoli che vince l'atalanta con l'udinese comunque si mette a otto punti dal quinto posto che è importantissimo l'obiettivo ormai diventato l'obiettivo minimo tornare in champions league comincia a essere un vantaggio importante e quindi ragazzi iscrivetevi al canale youtube del benzinero che come dice sempre non nuoce alla salute non vi fa cadere i ritini non vi fa prendere il diarreino quindi iscrivetevi campanelle aggiornamenti pollice in su per il benzinero forza sempre grande milan detto questo ieri la squadra mi è piaciuta soprattutto nei pochi momenti di difficoltà è una squadra unita che è compatta da dove veramente lascia pochissimo spazio agli avversari alle occasioni avversarie un milan cinico che comunque le sue occasioni le ha buttate dentro sono veramente soddisfatto una gioia immensa vedere questi ragazzi orgoglioso ognuno di noi deve essere orgoglioso di quello dei nostri ragazzi simon kia sono contento nulla di grave avevo paura perché cazzo l'atalanta a me fa paura poi io che sono di vergamo avete presente quanto cazzo mi sfottano se perde c'è il bar vicino al mio distributore è fatto 80 per cento da talantini i miei amici tanti sono atalantini avete presente quanto mi pigliano per il culo soprattutto uno una testa di minchia quindi detto questo sono contento anche per lui speriamo che entro sabato riusciamo a recuperare anche ante rebic il passi sto cazzo di corona virus sono davvero fiducioso fiducioso perché perché comunque abbiamo una rosa ormai fatta da 20 giocatori che tu cambi dentro e cambia poco e nulla detto questo le tanto attese pezzi nero pazelle super gigio donna ruma rinnova gigio rinnova cazzo voto sette e mezzo nelle uniche occasioni si è fatto trovare pronto ha fatto delle belle parate grande sicurezza di gigio comanda la difesa un giocatore per noi insostituibile ormai raggiunto la piena maturità non fa più errori non passa nessuno messo un vetto di cimento armato grande gigio prodigio dall'otto a me non è dispiaciuto io gli do sei e mezzo al ragazzo sempre diligente ordinato chiusure perfette sempre sull'azione bravo non ha ovvio non ha la spinta di teo hernandez però il suo suo lavoretto è che noi siamo abituati bene siamo abituati con teo quindi siamo sempre un po critici con dal lot però ha fatto una buona partita simon kiel finché c'è stato voto sette insuperabile come il tonno quindi voto sette meritato come voto sette io do al capitano romagnoli bravo capitano le critiche che ti fanno ogni tanto per me sono ingiuste sono immeritate bella prestazione tuo sette te lo sei meritato comunque noi abbiamo sofferto veramente poco e quelle poche sofferenze le abbiamo avute quando eravamo in dieci quindi ci sta un gran bel romagnoli sono contento sei e mezzo per calabria perché gli do sei e mezzo mi è piaciuto un po qualche sbavatura in fase difensiva questo giro io l'ho visto ha preso un palo che penso che ognuno di noi ha tirato giù il rosario che sfiga malefica aveva poteva fare un gran bel gol comunque in fase di spinta bene si accentra cerca la giocata cerca di fare gol ha impegnato comunque ben due volte il portiere una volta palo una volta una bella palata di cranio grande davidone ricordo non dimenticarti mai la fase difensiva però davide castiglieco voto sei più su dalla maglia raga io non potrò mai dargli l'insufficienza come dico sempre su dalla maglia corre come un pazzo manca di qualità manca qualcosa di qualità però sei più per castiglieco che si voto sette e mezzo che si un cannibale un cannibale impressionante cioè se vedete se ci fate caso i giocatori centrali avversari cercano di passare dall'altra parte dove c'è tonali perché sanno già che da che si non passa nessuno e senza senza non ci sono più parole mi è piaciuto anche gli do comunque un bel sette anche sandrino tonali perché ieri gli ho visto fare anche delle belle geometrie giocare di prima velocità recuperato tanti palloni bravo sandro hai anche preso botte da orbi a me io vedo questo ragazzo sempre più nel progetto milan sempre più tranquillo c'è cazzo a 20 anni figa a 20 anni questo qua quando ha 24 anni ce lo chiedono per 100 milioni noi non lo daremo mai perché un cuore milanista ma ce lo siete felici grandi tonali continua così peter aug peter guarda ti sei salvato ti do un sei più un sei un sei stirecchiato ti stavo per dare l'insufficienza peter nonostante ho la tua maglia e tu sei il mio idolo idolo perché mi piace boh la tua storia mi piace però ieri stavi giocando davvero la cazzo di cane io ti stavo per dare cinque non ti do cinque e mezzo oggi perché abbiamo vinto ti do sei meno per quell'assist che hai fatto a ibraimovic che gli ha sparato addosso a cranio che gli abbiamo creato quell'occasione da gol se no io veramente ieri non mi sei piaciuto comunque peter io continuerò la mia battaglia in difesa tua perché comunque per me diventerai un campione braim diaz ieri sei sei più stirecchiato le giocate ce le ha sapete cosa è un po leggerino cazzo guarda il avversario fa una scorreggia d'oscale per terra però la tecnica c'è anche ieri quattro giocate le ha fatte non è stato il miglior braim diaz però io gli do fiducia sempre a uno così c'è dietro le punte se non c'è c'è cialanoglu c'è diaz e io a certe cifre 18 20 milioni lo riscatterei sempre per fare vice ciala perché c'ha la firma c'ha la firma ed ecco voi è tornato il re zlatan re zlatan che voto voi dagli a re zlatan guarda volevo dagli 10 ma gli do 9 perché perché ha ragione l'ha detto anche lui 1 barra 2 gol l'ha sbagliati allora parto dicendo contrario quando l'ho visto battere il rigore perché i rigori sono di che sì e lui ne aveva sbagliati tanti ha segnato ha avuto ragione lui ha fatto il gol del 2 a 0 che si è liberato da solo con un movimento felino ragazzi non gioca praticamente da due mesi torna mette le scarpine due pere agli avversari fondamentale mostruoso highlander clonate mi zlatan ibraimovic clonate mi zlatan ibraimovic ragazzi detto questo oggi ufficiale ha dato l'ufficialità la c milan dell'acquisto di mazukic a me ne sono dimenticati ancora due comunque ufficiale l'arrivo di mazukic anche questo servirà per migliorare ancora di più la rosa calullu che mi ero dimenticato voto scette che cazzo di personalità non è stato impegnato io lo voglio vedere di più su cross in marcatura se è migliorato però che cazzo di personalità questo qua abbiamo a parametro 0 abbiamo preso un fenomeno in difesa quindi grande calullu mete voto 6 e mezzo è entrato raga per me la coppia calullu mete a me non piaceva ma sapete che forse messo quando vince 1 a 0 gli ultimi 15 minuti non passa manco l'aria in quel posto lì comunque se c'era zio silvio quel giocatore non entrava in campo con quel ciuffo quel ciuffo così silvio macchinetta da guerriero senza capelli comunque bravo me te sei partito bene subito quindi mi sei piaciuto stefano pioli io amo stefano pioli non ci lasceremo mai grande stefano voto 7 e mezzo ho preparato la partita bene non ti piangi mai addosso sei un grande e ti sostero sempre anche nei momenti di difficoltà solo per il grande uomo che sei non sei un piangina fai giocare bene questo mila meriti di portare a casa un trofeo o il campionato quindi stefano pioli numero 1 forza mia raga iscrivetevi al canale campanello degli aggiornamenti pollice in su commentate video viva la figa